Buongiorno a tutti, siete tantissimi, più di quelli che mi aspettavo. Una domanda per iniziare, quanti di voi hanno avuto a che fare con virus, li hanno visti dentro, hanno cercato di capire come funziona? Lasciate le mani? Pochi, vabbè, perché la cosa sarà molto veloce e con molti elementi, quindi cerchiamo un attimo di far capire a tutti un po' l'elemento. Il mio nome è Andrea Pompili e oggi vi parlerò di Advanced Persistent Threat. È una buzzword che in questo momento sta prendendo piede particolarmente, come cloud, come tante altre cose. Perché? Perché fondamentalmente parliamo di virus. Prima di parlare degli Advanced Persistent Threat però io riprendo un discorso che ho fatto l'anno scorso, che è chi ha seguito lo speech mio l'anno scorso, ossia ripartiamo dalla matematica dell'attaccante. L'anno scorso abbiamo detto che normalmente gli attacchi informatici avvengono secondo una determinata matematica, nel senso che non è mai possibile che un attaccante attacchi un qualcosa che ha un valore inferiore rispetto al costo dell'attacco. Abbiamo fatto l'esempio delle carte di credito. Le carte di credito sul mercato nero valgono 10 dollari. Ovviamente se io voglio guadagnare 10 dollari dovrò spendere in termini di tempo, mezzi, strumenti, il valore di 10 dollari. Quindi capite già che il meccanismo è totalmente diverso. Su questo paradigma si è incastrato l'aspetto proprio degli Advanced Persistent Threat. In particolar modo l'anno scorso abbiamo detto cerchiamo di capire come pensa l'attaccante, ossia l'attaccante attacca un qualcosa perché il suo valore, il valore di quello che guadagnerà è superiore al costo che ci spende, al tempo che ci spende. Come ottiene l'accesso? L'abbiamo visto, quindi exploiting, civil injection, tutto quello che vi pare per chi già le conosce, ci sono diversi tipi di vulnerabilità che consentono di fare questa cosa. Abbiamo visto l'anno scorso che le vulnerabilità usate sono le più semplici possibili, ossia l'attaccante proprio perché deve risparmiare, usa il percorso più semplice e che costa di meno. Quest'anno partiremo del terzo punto di cui l'anno scorso non abbiamo parlato che è come sfrutta l'accesso ottenuto, cioè una volta che sta dentro la macchina, che fa? E qui si incastra il concetto dell'Advanced Persistent Threat, fondamentalmente nella visione romantica degli hacker, l'hacker entra dentro la macchina, la modifica, ci mette la backdoor, modifica le pagine web, fa tantissimo lavoro. Ecco, questa versione romantica non esiste, si sono resi conto tutti che è più facile mandare un virus, il virus si installa, la backdoor alla macchina e da lì accedo e faccio quello che voglio. Quindi quello di cui parleremo oggi è appunto di questi malware, li definiremo così perché sennò c'è la diatriba, worm, virus e vedi scorrendo, quindi come funzionano e perché sono così efficaci proprio per ottenere il terzo punto, come sfrutta l'accesso ottenuto. Cominciamo, visione romantica, perdonatemi un po' di storia, diciamo il concetto dei virus è abbastanza antico, ma soprattutto è abbastanza antico il concetto degli studi, della letteratura per quanto riguarda la realizzazione di virus. Nel 1996 era uscita una fanzine abbastanza famosa dove in pratica dei ricercatori risilizzavano dei virus amatoriali e li mettevano a disposizione come elementi di ricerca, quindi esistono ancora delle copie di questa fanzine, ci sta, io ho fatto il virus così, lo propaghiamo o cosa? Quindi tante belle idee che sono poi state il frutto di tutti i virus moderni che sono stati realizzati. In particolar modo io vorrei farvene vedere tre che sono abbastanza importanti perché sono stati la base per tutti i virus moderni. Il primo è questo, quanti di voi lo conoscono? L'hai visto? Perfetto, questo bel virus era una lettera che è fondamentalmente un'email dove all'interno ci stava un VBScript che veniva eseguito, prendeva il controllo della macchina, scritto in Visual Basic. Un virus in Visual Basic, la gente ride perché noi cici, plus plus e tutte queste belle cose. Il tipo oltretutto, incredibilmente, aveva messo anche la sua firma, questa era la parte iniziale del virus, quindi aveva detto pure che era filippino, che odiava di andare a scuola, via discorrendo è stato arrestato, il danno è stato per 8,7 miliardi di dollari, ma la cosa che ci interessa di più è il fatto che gli utenti aprivano quella mail. Perché aprivano quella mail? Perché era una lettera d'amore. Psicologia. Gli utenti tipicamente, se non sono attenti in quella finestra temporale che va dall'aspetto della sorpresa iniziale e la ragione del tipo, ma è impossibile qualcuno mi mandi una lettera d'amore in inglese scritta in quella maniera, aprono l'allegato. L'allegato oltretutto era nascosto in quel caso, sfruttava una vulnerabilità che non era manco Zero Day perché era di un anno prima, che era stata usata pure da Melissa, che fondamentalmente apriva l'allegato nel momento in cui uno leggeva la mail. Quindi, attenzione, il concetto, sfrutto la curiosità dell'utente per eseguire qualcosa. Andiamo avanti, Nimda, forse non lo conoscono in molti, aveva una caratteristica molto interessante del 2001, si propagava via mail attraverso una vulnerabilità su leader delle mail HTML, in pratica se le mettevi come audio si eseguivano automaticamente, bella vulnerabilità. Si propagava sul file system, semplicemente inserendo questa DLL dove c'erano documenti Word, perché Office 2000 caricava automaticamente quella DLL e la eseguiva. Quindi che faceva il virus? Su ogni share di file system, su ogni elemento, metteva quella DLL, che in realtà era copia di se stesso, e si eseguiva. Non solo, è il primo virus che dai client attacca i server. In particolar modo sfruttava due vulnerabilità già note, una utilizzata da CodeRed e l'altra, diciamo, che era già nota da quasi sei mesi, per attaccare IS. Fondamentalmente andava su IS e faceva command execution, quindi lanciava dei comandi e si scaricava dalla macchina stessa con TFTP server che era stato creato ad hoc dal virus, copia di se stesso. Quindi il server che faceva si collegava al TFT del client, si tirava giù il virus, eseguiva il virus e si infettava e ricominciava la solfa. Perché è importante in IMDA? Perché vedete i meccanismi di propagazione erano più di uno. Quindi secondo elemento, curiosità dell'utente, più meccanismi di propagazione, non solo la mail, ma anche le share, ma anche i server, anche con vulnerabilità tecnicamente manco zero day. Cioè vulnerabilità che erano note da un anno, semplicemente non patchate. Andiamo avanti, danno ovviamente 635 milioni di dollari, perché così pochi? Perché c'era stato CodeRed due mesi prima, quindi si erano abituati con CodeRed, le vulnerabilità erano le stesse, quindi in qualche maniera non ha fatto tanti danni. Invece ha fatto tanti danni quest'altro virus, si chiama SQL Slammer, lavorava su SQL Server di Microsoft, aveva un payload di 376 byte, ottimizzati in assembler, quindi era piccolissimo, lavorava solo in RAM, nel senso che se voi spegnevate la macchina e la riavviate, il virus non c'era più, e sfruttava una vulnerabilità sul protocollo di amministrazione di SQL Server. Il protocollo di amministrazione di SQL Server era in UDP, quindi ovviamente aveva una capacità di diffusione estremamente elevata, perché su UDP non c'è tutta la parte del Trian Shake di TCP, e quindi in 75 mila computer si sono infettati solo in 10 minuti. Ma la peculiarità di questo virus non è questa, perché questo non ci interessa molto, era il fatto che chi installava Visual Studio o altri programmi Microsoft, gli si installava sotto, senza che lui lo sapesse, la versione client di SQL Server, che era anch'essa vulnerabile. Quindi la diffusione è stata elevata, perché parecchie persone inconsciamente avevano un SQL Server installato nella macchina, che era vulnerabile, si prendevano il virus e infettavano altri server. Io faccio un esempio, quando lavoravo in Telecom Italia, noi ci siamo presi SQL Slammer due volte, la seconda volta è perché c'era uno sviluppatore poverino con Visual Studio installato, che ha infettato il server più grosso del data center di Bologna e in un istante ha bloccato tutti i flussi di Telecom Italia, quindi tutti i cartellini di traffico che sono andati a quel paese. Perché? Perché faceva tanto traffico. Poi valla a trovare, in Telecom era un po' complicato. Quindi terzo punto, quindi psicologia, multi-attacco. Terzo punto, sfruttare programmi che l'utente ha installati ma non lo sa. Tipo Java, per esempio, lo vedremo dopo. L'ultimo virus importante si chiama MyDoom, diciamo che è l'ultimo del ciclo della storia dei virus amatoriali, quindi stili ragazzetti che si divertivano a fare i virus. MyDoom era sempre stessa caratteristica, mail che arrivava con testi del tipo l'FBI sta arrestando Bill Gates e tutti aprivano per vedere Bill Gates e cosa gli succedeva. Era fatto con estensioni SCR, quindi screensaver o XE, ci stava di tutto e di più. Vedeva le mail che stavano all'interno della macchina e si diffondeva in quella maniera. 22,6 miliardi di dollari. Aveva due peculiarità. La prima, che il primo febbraio del 2004 attaccava con un denaro service SCO. Questo ce l'aveva con SCO in quel momento, per le questioni di Linux, del brand di Linux, che in quel momento c'era un po' di litigazioni legali. E quindi il primo febbraio attaccava SCO. Ed effettivamente è partito l'attacco. Non ha avuto gravi danni perché SCO non si affilava nessuno, però fondamentalmente già questa cosa interessante. Un virus che fa qualcosa interessante. Ma soprattutto era programmabile. Apriva una backdoor su porte che andavano dalla 3127 alla 3198. Una backdoor molto particolare. Stava semplicemente in ascolto e se arrivava questa sequenza di byte, lui prendeva il contenuto di quello che gli veniva inviato, lo salvava su file system e lo eseguiva. Quindi questa è la cosa importante. Era multivettore, nel senso che, multistadio scusate, nel senso che poteva prendere un altro eseguibile ed eseguirlo. Quindi non era più un virus fatto per l'occasione, per diffondersi, per fare diciamo una bravata. Era un virus il cui scopo era quello di essere programmabile, fare qualcos'altro. Dopo di questo ci si sono messi i governi. Quindi dal 2010 al 2012 c'è stata la grande evoluzione dei virus, che penso che sia, in termini di letteratura, il meglio del meglio per chi si occupa di malware e virus. Ossia ben quattro virus, Stuxnet, Dooku, Flame e Gauss, il cui costo medio era 3 milioni di dollari, 4 milioni di dollari, perché sfruttavano delle vulnerabilità non note, manco zero dei, non ne sapeva nessuno. Vulnerabilità sui print spooler. Stuxnet aveva delle vulnerabilità addirittura sui sistemi di controllo delle centrali nucleari, Siemens, quindi aveva della roba che era stata studiata ad hoc per colpire le centrali nucleari dell'Iran. Quindi virus fatti come cyber weapon, cioè armi effettivamente mirate contro gli iraniani in quel caso, qualcuno dice che erano di test. La cosa incredibile è che avevano tutti questi zero dei, e ve ne voglio parlare di uno, giusto per capire la complessità di questi virus. Questo è Flame. Perché tutti dicono che sono stati fatti dallo stesso autore? Perché condividono parecchie parti di codice. Quindi in qualche maniera lo stesso autore, si dice che sia il governo americano con gli israeliani, ma io non vi ho detto niente, hanno fatto tutti e quattro i virus. Flame in particolar modo è di 20 mega, un virus di 20 mega, ma manco quando installate un zip o qualcosa del genere, forse volete più. 900k era il programma principale, o il dropper, cioè quello che poi scaricava gli ulteriori moduli, i moduli noti sono 16, venivano utilizzati 80 domini per fare il comando e controllo, cioè questo sistema si scaricava i vari moduli da 80 domini diversi sparsi nel mondo, si diffondeva anche attraverso le USB, le porte USB, in particolar modo c'era un modulo che si chiamava Infect Media, che si occupava di questa cosa, quindi che si diffondeva attraverso le porte USB, faceva numerazione di dispositivi Bluetooth col modulo Beetlejuice, quindi si vedeva se c'erano dispositivi Bluetooth intorno e provava a diffondersi attraverso i dispositivi Bluetooth, faceva registrazione audio, quindi poteva anche registrare col modulo Microb tutto quello che succedeva, quindi diventava una microspia a tutti gli effetti, e in ultimo tirava su un proxy che si sostituiva a Windows Update. Come faceva a sostituirsi a Windows Update e perché lo faceva? Lo faceva con un attacco che era puramente teorico, che è l'MD5 Collision Attack, per chi conosce gli hash, l'MD5 è una funzione di hash che data un file di qualsiasi dimensione e genera una stringa di 128 bit. Esiste in teoria, ma teoria pura matematica, la possibilità di avere, perché ovviamente 128 bit è più piccolo della dimensione di un file, la possibilità di avere due file che danno lo stesso, gli stessi 128 bit. È una questione proprio di informazione, per chi fa teoria dell'informazione questo è il concetto, teoria delle comunicazioni. Quindi effettivamente per ogni MD5 ne può esistere un altro. Qual è il problema? Che i certificati che Microsoft emette per fare Windows Update sono basati su questo tipo di firma. Quindi che hanno fatto questi signori? Hanno preso il certificato originale di Microsoft e si sono generati un altro certificato valido che aveva la stessa firma, sfruttando questa vulnerabilità. È una cosa computazionalmente molto complessa, ma qualcuno l'ha fatta. Quindi questo oggetto si metteva come Windows Update e diceva a tutte le macchine Microsoft, oh sono io Microsoft, aggiornatemi da me e scaricava il virus. Quindi come vedete stiamo parlando di elementi molto complessi che stranamente mettono insieme tutti e tre gli elementi, la multicanalità, il multivettore, il multistadio, complessità e via discorrendo. Ma questo stiamo parlando di governi. In realtà nel 2007 è successa un'altra cosa che è passata un po' in sordina perché io stesso non gli ho dato molto peso, che è lo stormworm. In pratica sono arrivate molti anni di mail, sempre col stesso sistema FBI contro Bill Gates, c'è stato il terremoto in Cina, guardate gli effetti del terremoto, che fondamentalmente inducevano l'utente a scaricarsi in qualcosa che era il virus e quindi eseguirlo e il virus da lì infettava altre macchine. Questa cosa sembra che sia stata fatta dalla Russian Business Network, che sono un'organizzazione russa che si occupa di cybercrime, perché? Per costruire delle botnet. Cioè questi hanno detto, è noioso andare a bucare i server uno per uno, metterci dentro la backdoor. Facciamo un bel virus che in un istante ci prende i PC di tutti, in modo tale a costruire la nostra botnet. Perché? Perché dal loro punto di vista il vostro PC, quindi noi siamo abituati a pensare alla NASA e via discorrendo, ma il PC del singolo individuo è una miniera d'oro per il cybercrime. Per le informazioni che ci sono dentro? Sì. Diciamo che per le cose più importanti è perché può essere un bot, quindi un computer che al mio servizio può fare delle cose brutte quando a me serve, mandare mail, esporre dei siti web fittizi. Posso farci tante cose, non solo, posso usarlo anche per intercettare il traffico, per deviare l'attenzione e per anonimizzare la mia navigazione, ci posso fare tantissime cose. Quindi questo è il problema principale. Il PC, anche quello più stupido che avete a casa e adesso anche i telefoni mobili, sono utili per tutte queste oscure ragioni. E a questo punto, visto che il vostro PC è così importante, visto che i cybercriminali, chiamiamoli così, si interessano ai vostri computer e ci vogliono entrare dentro, cominciamo a dare la definizione rispetto a quello che abbiamo detto prima degli Advanced Persistent Threat. Quindi il primo elemento, io devo rompere il legame di fiducia col mio utente, cioè devo trovare un sistema per fare in modo che il malcapitato esegua il virus, molto banalmente. Come lo faccio? Social Engineering, gli faccio credere che sono il suo miglior amico o che sono la persona del suo cuore e via discorrendo e faccio in modo che lui quindi esegua il virus. Posso fare Spare Phishing, Spare Phishing significa ti mando una mail che mi dice sono l'amministratore delegato della tua azienda, ti prego leggi questo documento e chi non legge il documento dell'amministratore delegato dell'azienda e si infetta. Le botnet sono fondamentali perché ovviamente tutto sto circo funziona se io posso inviare mail in maniera anonima, se no mi vengono a restare a casa dopo due secondi, ma soprattutto una strategia dive to click. In realtà questo è l'unico elemento che viene personalizzato ogni volta, cioè il modo con cui io induco un utente a beccarsi il virus. Qual è il meccanismo psicologico che io uso? Nel caso di I love you era ti mando una lettera d'amore, gli utenti amano, vogliono l'amore e tutto il resto aprono. Il secondo elemento è l'exploit del client, quindi la possibilità di bucare letteralmente il client e quindi qui ci sono vulnerabilità di tutti i tipi che sono client based per Firefox, per Java, per Office, per quello che vi pare. Sfruttare quindi qualcosa che è installato dall'utente. Multistadio, ossia io ho un primo elemento che entra, la riete, e dopo installo altre cose. Questo è fondamentale, quindi un advanced persistent threat è tale perché prima c'è il dropper e poi tutto quello che viene dopo, ricordate Flame. Multivettore, non è che io devo scaricare tutti i pezzi del mio virus dallo stesso canale, magari gli mando il primo pezzo via mail, il secondo se lo scarica da internet e il terzo se lo prende dalla chiavetta USB. Perché questo? Perché confondo un po' le idee, perché nessun antivirus può coprire tutti quanti gli elementi messi insieme. In questo momento va molto di moda email più navigazione web o navigazione web più email, questo è quella che funziona sempre alla grande. In ultimo devo rimanere là dentro, devo essere resiliente, quindi mi devo camuffare sul sistema operativo, non devo far vedere che ci sono, ho bisogno di un sistema di comando e controllo che gli dà gli ordini al mio malware, gli dice fai questo, fai quest'altro e devo avere un cover channel adeguato. Ovviamente se io vedo un giga di traffico che mi esce dalla mia macchina probabilmente c'è un virus, se io vedo che il traffico è normale o che il traffico viene mischiato con il traffico normale DNS per esempio, ovviamente io non mi porrò il dubbio che c'è un virus in qualche maniera. Come vedete non c'è la diffusione, cioè noi siamo abituati che i virus quando si installano si diffondono. In realtà gli advanced persistent threat, l'obiettivo è quello di essere targettizzati, becco il target, rimango là dentro per sempre, rimango lì, multistadio è quello che vuole. L'obiettivo non è quello di diffondersi dall'interno, quello è più per le cyber weapon, quindi come vedete non c'è più quella visione romantica del virus che prende, si diffonde e distrugge le reti, proprio perché la diffusione è già un meccanismo per far scoprire il virus, quindi a me non interessa. A questo punto nasce un problema. Visto che il virus, cioè c'è questa bella tematica abbastanza strutturata, mi conviene farlo tutte le volte o comprarmelo. Negli ultimi tre anni sono usciti parecchi venditori occulti che in qualche maniera vendono virus, malware, kit, tutto quello che vi pare, con costi anche risori, per esempio Zeus che è più l'infostealer più famoso, per 100 dollari te lo vendono, 200 dollari, va a seconda se volete la versione che fa tutto, quello che fa poco, e ci si prende normalmente le carte di credito, ma anche altre cose, come vedete i prezzi sono molto efficienti. Questa cosa quindi ha scombinato un po' il mercato dei malware, perché i costi sono effettivamente abbordabili. Se io voglio rubare un migliaio di carte di credito, valore di 10 dollari, quindi stiamo parlando di 10.000 dollari di guadagno, effettivamente 100 dollari ce li spendo per questa cosa, ce li spendo per affittare una botnet. Quindi quello che è successo è che è nato il malware as a service, come ci sta il cloud as a service, Amazon che vende i servizi, abbiamo il malware as a service, quindi persone che si occupano di fornire servizi di qualità, con anche dei commerciali, con dei tecnici che supportano, c'è il supporto clienti, c'è tutto quanto, poi vedremo come funziona. Dove io sono, dove a questo punto però succede anche una cosa importante, c'è la divisione tra chi commette l'atto criminale e chi prepara le armi. Attenzione, è come il principio delle armi fisiche vere, cioè chi produce i kalashnikov, non è che vanno lì e li arrestano, perché quello produce i kalashnikov, poi chi li usa, non è il mio problema. Questa cosa comporta il fatto che questi signori li vendono esplicitamente su internet, cioè non gliene importa niente, prima magari stavano nei forum underground, questi stanno direttamente su internet e fanno queste cose, per esempio ti puoi affittare una botnet, quindi c'è il tipo che ti affitta la botnet e dici per quanto tempo ti serve, per un'ora, 5 minuti, con le botnet si mandano le mail tipicamente o si fanno i siti web fittizi, ci posso fare un denial of service, mi sta antipatico il mio amico, lo voglio fermare per 24 ore, affitto la botnet e gli blocco il sito per 24 ore, sono servizi a pagamento, i russi sono molto bravi su questo, lo pagate 50 dollari e vi si blocca il sito del vostro peggior nemico e stiamo a posto, non solo, ultimamente con la questione di bitcoin sta anche aumentando la gente che usa ste botnet per fare da miners, perché ovviamente gli conviene e quindi che fanno, bugano pc, li mettono insieme in botnet per creare ulteriori bitcoin e prendere le famose percentuali in quanto miners, quindi questo è quello che sta succedendo, questo mercato sta quindi aumentando per avere le botnet, devo usare dei virus che mi generano le botnet e quindi è una specie di ciclo continuo. Poi, dopo che mi sono affittato la botnet, entra il lavoro mio, come spingo l'utente a scaricarsi il malware? Beh, la cosa più semplice, questa è vera, sono tutte le mail vere, mando una mail e gli dico, ciao amico mio, scaricati, questa è l'informazione che tu cercavi, scaricatela qui. Come vedete, arriva la mail, la mail ha un link, il link va sul web, quindi doppio canale, nel canale ci sta il malware, che in particolare dal modo adesso segnalare.zip, addirittura ci mettono come parametro il nome dell'utente, così sanno chi è che se l'ha scaricato. Questo è il più banale, diciamo ci cascano in pochi magari. Oppure gli mando una bella mail dicendo che sono la banca, come allegato ci metto un html, gli dico addirittura un pin code, gli dico guarda, accedi al sito della banca cliccando sull'allegato e metti questa password, perché così almeno garantiamo che sei tu, e tu ti si apre l'html che è questo, sostanzialmente un html con tutto dentro, ci metti la password e ti dice pure password accettata e quando entri dentro sostanzialmente i tuoi dati di carta di credito e via discorrendo il numero di carta, data di scadenza, codici di sicurezza vanno direttamente al sito forlocco. Tutta questa cosa si svolge direttamente nel client, quindi come vedete non ci sono siti strani o cose già, il sito è il client stesso, perché l'html sta dentro il client, quindi tu gli mandi i dati e li mandi direttamente al cattivo. Altro sistema, twitter, ti mando un messaggio, ragazzi guarda, clicca qui, questa cosa è fighissima, la gente ci clicca e si prende il virus, oppure mentre navigo improvvisamente mi appare una schermata che sembra un programma, questo in realtà è un html, non è nulla di vero, quindi ci sono un po' di immagini, un po' di cose che ti dice oh se vuoi ti faccio la scansione del computer, oh il tuo computer è pieno di virus, scarica l'antivirus e nell'antivirus c'è il virus, quindi questo è il concetto, come vedete è abbastanza simile a Explorer. In ultimo, per chi gioca, ovviamente io faccio un leaks, gli dico guardate c'è Call of Duty, questo è vero, è uscito, vi dico c'è la versione beta nascosta e vedete scorrendo, installatela e dentro c'è il virus. Quindi queste sono le strategie, ce ne sono miliardi di altre, questo ne ho messo soltanto alcune, per indurre gli utenti a scaricarsi qualcosa. Il problema è che poi l'utente non è fesso, se vede un eseguibile, magari non l'esegue. E come faccio a fare in modo che lui esegua l'eseguibile? Per esempio, sfrutto le estensioni nascoste di Windows. Quanti di voi c'hanno le estensioni nascoste di Windows abilitate? Eh? Li disabilitate tutti, bravi. Perché la prima cosa che fanno? Fanno un eseguibile dove cambiano l'icona e ci mettono l'icona di Word, del PDF o quello che vi pare. Siccome Windows nasconde le estensioni, tu pensi che è un Word, che è un PDF o quello che ti pare. Quindi disabilitate, dite a tutti quanti disabilitate, nascondere le estensioni di Windows, le dovete vedere. Però, per chi, siccome parecchia gente ormai lo fa, ci sono gli zip che ci aiutano tantissimo. Perché con gli zip si possono fare tantissime cose. L'esempio più banale è questo. Faccio lo zip e dentro ci metto un risposta.pdf, una svalangata di underscore.exe. Siccome voi quando aprite WinZip non l'aprite a finestra a tutto schermo, vi rimane nascosta la parte dove c'è scritto .exe e ci cliccate sopra. Questa cosa funziona alla grande. Certi ci mettono gli spazi, ma siccome si sono resi contro i di WinZip che gli spazi li beccano, ci mettono gli underscore. Perché uno non ci fa caso? È quella finestra temporale tra il dormiveglia e l'attenzione. Ma non solo. I signori di Unicode ci hanno creato uno standard fichissimo. Siccome Unicode ci consente di scrivere anche caratteri arabi, e come voi sapete gli arabi scrivono da destra verso sinistra e non da sinistra verso destra, si sono inventati un carattere che si chiama RLO, che fondamentalmente dice al client, oh, da questo momento in poi tutti i caratteri che vedi vanno letti al contrario. E siccome exe è una parola palindroma, se lo girate è uguale a exe, questa cosa qua si legge cod.exe ed è uneseguibile. Lo cliccate e si esegue. Ok? Grazie Unicode. Ma se l'utente è ancora più sgamato e dice no, ma io clicco solo dove io vedo per benino, ci viene in aiuto gli standard. Gli standard sono fichissimi perché aiutano tantissimo gli hacker. Nel senso, io scarico un file che è slash 2 slash 2, che non è estensione, non è niente, però poi uso il content disposition, gli dico che ero in line e gli dico il nome del file. Questa cosa è prevista a livello di standard e lo standard dice, occhio, questo è un problema di sicurezza, lo dice lo standard, però per retrocompatibilità ce la dobbiamo avere purtroppo. E quello che succede è che questa cosa, se tu hai un sistema di web content filtering che in teoria dovrebbe bloccare le estensioni .exe, così non funziona. Perché giustamente non vede il .exe, perché sta nel content disposition, non sta all'interno del nome del file. Quindi questo viene utilizzato per far credere all'utente che si sta scaricando qualcosa di buono, in realtà va su un eseguibile. Detto questo, ce ne sono altri sistemi, però quello preferito da tutti è l'exploit del client. Perché ovviamente, ricordatevi quello che abbiamo detto per SQL Slammer, il client c'è tante cose a bordo, per esempio c'è Java. Questo è un esempio di un malware che io ho analizzato due settimane fa, per farlo giusto per riportarlo qui. Il malware sostanzialmente si scaricava da questa pagina, quindi gli arrivava all'utente una mail con il link, il link puntava una pagina fatta in questa maniera. Come vedete, si parlava di siti che vanno estensioni .in che è India, quindi siti presi in hosting in India, che hanno normalmente una durata di mezz'ora, un'ora, quindi significa che dopo un'ora non esistono più. Quindi che succede? Lo fanno perché la campagna d'attacco deve durare in 5 minuti, 6 minuti, poi è finito. Dove si scarica? Sostanzialmente questo jar. Questo jar, tutto bello offuscato, fatto stranissimo, varie classi. Vabbè, noi ci siamo andati a vedere subito la classe RGMIV, che è la classe principale dove ci sta l'uplet, per chi conosce Java, questo è quello che usciva fuori. Un delirio. Innanzitutto ci sono tantissime istruzioni che confondono l'attenzione, tipo quelle stringhe che non servono a niente, oggetti creati che non servono a nulla, quindi è difficile capire anche che cosa faccia il malware. Perché fanno questa cosa? Perché così l'antivirus non capisce niente. Voi direte, vabbè, mi vado a vedere le stringhe. Le stringhe sono tutte cifrate, con uno XOR banale, c'è una funzione che XOR ha col carattere 5B, fondamentalmente le stringhe sono tutte in quel formato che vedete all'inizio, con una funzione che le decodifica utilizzando l'OXOR. Quindi tutte le stringhe sono cifrate in questa maniera, non solo, per renderci più complicata la vita, usano le reflection API di Java. Quindi non chiamano mai l'API standard di Java, lo fanno attraverso le reflection API, ossia prendono il nome della classe e la estanziano con class for name, poi prendono il costruttore facendo class get constructor e poi invocano il metodo col metodo invoke. Tutta questa cosa con delle stringhe, che sono le famose stringhe cifrate che avete visto prima. Quindi sostanzialmente per fare una qualunque operazione ci sta un passaggio di vari object, 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 object che chiamano tutte queste funzioni e quindi ricostruire il flusso è un po' complicato. Non solo, siccome ci vogliono complicare ancora di più la vita, sfrutto una vulnerabilità, una pseudo vulnerabilità che è stata riconosciuta nel 2012, ossia la possibilità di estendere il class loader e poter caricare delle classi da stringhe. Normalmente il metodo define class che vedete qui non può essere chiamato perché è protetto. In realtà se io estendo il class loader posso richiamarlo all'interno con un metodo statico e questo è quello che succede. Quindi questo X, C, P, O, A, L e tutto il resto sostanzialmente è un punto class che viene trasformato in base64 e poi codificato col sistema di codifica che abbiamo visto prima. Quindi che fa questo oggetto? Si carica una classe e la mette in memoria. Perché è fatta in questa maniera? Perché la classe è questa, il dropper. Qui non c'è nessuna codifica, il dropper è così come è fatto. Che fa questo dropper? Semplicemente si scarica da internet un file, lo mette sul file system e lo esegue. Questo è tutto quello che fa. Quindi ovviamente lo decodifica con 0x29, quindi come capite fondamentalmente scarica un file e lo esegue. Stranissimo perché se voi conoscete le sandbox Java questa cosa non è possibile. È possibile perché c'è tutto questo affarone davanti sull'applet che sostanzialmente usa i raster che sono immagini 2D fondamentalmente, ci fa delle cose strane. Cercando su internet si trova che questo è un exploit. Cioè paro paro così come l'hanno usato all'interno di quel programma, così esiste su questo sito. Esiste su questo sito perché fondamentalmente si basa su un buffer overflow, sulla funzione compose, che sostanzialmente spacca il sistema di sicurezza di Java all'interno e fa in modo che un array di interi abbia dimensione infinita. Quindi da quel momento in poi posso leggere tutte le variabili che stanno nel leap di Java. Quindi che faccio? Vado dove imposto il security manager, imposto il security manager a null e a quel punto posso fare quello che voglio. Ho rotto Java. Quindi punto su Java, faccio questa cosa e questa cosa pubblica è di agosto del 2013, io l'ho vista due settimane fa ripetuta diverse volte, viene codificata ogni volta con una chiave diversa, quindi con un builder diverso. Perché? Perché fondamentalmente viene fatta con exploit pack. Questi sono gli exploit pack più famosi, ce ne stanno miliardi di exploit pack. Ossia oggetti che ogni volta che esce una vulnerabilità vengono sistemati per fare quello che abbiamo visto prima. Quindi non c'è manco l'intelligenza di chi fa l'attacco. Quello si compra l'exploit pack e se lo usa. Direttamente così. Il più famoso è Neutrino, ma anche Black Hole Exploit Kit va alla grande. A questo punto che ci faccio una volta che io posso eseguire qualcosa? Il file che vedevamo prima, fondamentalmente si scaricava sei eseguibili e li eseguiva. Normalmente sono le toolbar quelle noiose che cambiano il puntatore o mettono roba su Firefox e viceversa. Oppure possono essere infostealer, ne abbiamo parlato prima, quindi oggetti che si raccolgono i dati dal computer, perché gli servono i numeri di carte di credito, perché gli servono i vostri dati e vi discorrendo. Oppure possono essere dei RAT, Remote Touch Stroyan, ossia degli oggetti che permettono di avere il controllo completo della vostra macchina. L'ultimo che è uscito è Dendroid, che è fatto appunto per Android, il nome non è un caso. A 300 dollari vi permette di controllare qualsiasi Android. Ovviamente poi dovete avere l'exploit kit per poter entrare dentro e tutto il resto. Dark Comet. Poi Sony V perché è famoso? Perché lo usano i cinesi? Quindi quando dicono che i governi attaccano con roba sofisticata, in realtà i cinesi attaccavano con un exploit kit commerciale, con poi Sony V che è tutto open source, quindi ve lo potete scaricare tranquillamente. Quindi i cinesi che attaccano gli americani costa roba. Questo è quello che succede, perché effettivamente conviene in termini di costi. Oppure l'ultimo è CryptoLocker, non ci perdo molto tempo, ossia la possibilità di eseguire un qualcosa che cifra i vostri dati sul computer con una chiave che è dedicata a voi e poi vi chiede il riscatto con i bitcoin. C'era Reviton prima, ma Reviton si poteva disinstallare facilmente. Questo è più figo perché usa un sistema di comando e controllo esterno per generare una chiave privata specifica per ogni utente che viene colpito. Quindi io vengo colpito, mi viene generata una mia chiave privata, mi viene cifrato parte del disco e poi mi chiedono i soldi per decifrarla. Questo è così come funziona. Bitcoin eccetera. Quindi ho bisogno di sistemi di comando e controllo efficienti, perché per fare tutto sto giro ho bisogno di server su internet apposto. Quindi o me li compro da chi mi fa anonymous hosting, per esempio gli indiani e via discorrendo, perché io non voglio che si sappia, buco un sito, ma questa ormai scordatevela, non la fanno più perché non conviene, proprio tecnicamente non conviene. O la cosa più figa, mi faccio un blog pubblico su Yahoo e ci metto i comandi sopra in base64, quelli sono i comandi che vengono scambiati col malware. Quindi io metto i miei comandi sul blog che ho, oppure sul mio account Twitter. Quindi crea un account Twitter, questo è un sistema di comando e controllo, ogni stringa è una codificata base64 XOR che mi dice al mio malware di fare qualcosa. Questo è il concetto. Quindi ho risolto anche il problema di comando e controllo. Ora, in un casino così, come fa un antivirus a beccare una cosa di questo tipo. Malware che vengono fatti ad hoc, costruiti ad hoc, gestiti ad hoc. C'è un tipo che si chiama Icon Iponen di F-Secure che nel 2012 ha detto eh sì, vabbè, ma gli antivirus sono fatti solo per la roba quella per gli utenti normali, per gli attacchi fatti da, che ne so, dalle grandi aziende o da chi c'ha i soldi, effettivamente non servono niente. Beh, sta cosa nel 2012 valeva per le grandi aziende, adesso vale anche per gli utenti. Perché tutti i virus di cui vi ho parlato prima sono targettizzati per utenti, per voi, vi rimandano a voi. Questo è il concetto. Quindi gli antivirus non riescono più a beccare niente, perché sistemi di comando e controllo non si possono rintracciare, perché il virus viene codificato ogni volta, addirittura compilato ogni volta in maniera specifica e codificato in XOR con una chiave diversa. Quindi è impossibile da ricostruire. Ogni virus ha una memoria a sé. E qui è cambiato il meccanismo. E qui diamo sulla soluzione, perché sennò vi metto paura. Sandboxing. Ossia io prendo i miei file, tutto quello che mi arriva, e lo schiaffo all'interno di una sandbox. La sandbox può essere una macchina virtuale o quello che volete, poi vediamo varie caratteristiche. Ossia eseguo quell'oggetto all'interno di un ambiente controllato e vedo quello che fa. Se fa male, lo blocco o avviso. Se fa bene, lo mando avanti. Questa cosa si faceva prima naturalmente, la facevo io a manina quando vediamo i vari virus. Adesso può essere automatizzata. Ci sono diversi meccanismi in cui questa cosa si può fare. Si può mettere, se volete, per esempio, i virus in user space, un agent all'interno della macchina. Si può patchare il kernel con un rootkit, molti fanno così. Si può avere un hypervisor fatto apposta che veda tutto quello che succede. Si può emulare il sistema, l'hardware, quindi o emulo la CPU, emulo il disco, emulo quello che vi pare, che è quello più facile, o addirittura emulare il kernel. Ma questa è impossibile, perché voi immaginate Windows, tutte le API nascoste che ha, non le conosce nessuno, quindi emulare il kernel di Windows è complicatissimo. C'è Wine che ci prova, però effettivamente è molto complicato, quindi è una strada che non molti percorrono. La strada che attualmente tutti percorrono è o il kernel, mode patching, o il virtual machine monitoring, che è quello più efficiente. Per i terminali mobili o per i sistemi custom, per esempio gli embedded, tipo le macchinette banco, ma te lo scorrendo, sta invece prendendo piede la system emulation. Perché? Perché l'hardware è dedicato e quindi bisogna fare delle operazioni un po' complesse. Comunque sono tutti finalizzati a capire cosa succede nella macchina dall'interno. E questi sono tutti i produttori che sono usciti fuori. Il primo che ha teorizzato questo sistema si chiama Norman, adesso è stata comprata da Blue Goat, nel 2001 ha detto che gli antivirus dovranno essere basati su macchine virtuali che seguono questi virus, vedono cosa fanno e cercano in qualche maniera di bloccarli. Da quel momento in poi sono usciti tanti altri. Per esempio, non a caso, Farai, che è stata la seconda nel 2004, è all'incirca il periodo in cui è iniziato lo sviluppo di Stuxnet. Quindi si dice che si fa la malattia, ma anche la cura in qualche maniera. Quindi sostanzialmente sono tutti nati quando sono usciti i vari virus industriali, vediamola così. Alcuni sono free, tipo Lastline a Anubis o Wap & Wet, dove voi vi potete connettere, sottomettere in malware quello che viene eseguito in una sandbox e vi dice risponso buono o risponso cattivo. Altri sono addirittura open source, quindi li potete pure modificare, tipo Cook Sandbox, quello che sta facendo un po' più. Scalpore, Bitblaze o Ether. Ognuno ha un sistema diverso, un approccio diverso. Per esempio Cook Sandbox è basato su Virtual Machine, altri sono basati su Rootkit, sul Kernel e via discorrendo. E qui c'è l'escalation, perché voi pensate che quelli che fanno i malware si fermano là. E quindi ecco là tutti gli evader, tutti i tool che voi comprate, che in qualche maniera vi permettono di fare anti-Gaspersky, anti-Wemware, anti-quello che vi pare, anti-Anubis, e quindi che in qualche maniera si nascondono a questi sistemi. In maniera anche abbastanza interessante. Per esempio, vedono se il mouse si muove. Se il mouse non si muove, la macchina è una macchina finta e quindi io non mi eseguo. Tiro su una message box, se l'utente non la chiude, ovviamente è una macchina finta, non mi eseguo. Faccio delle sleep, aspetto 5 minuti, 10 minuti, 20 minuti prima di eseguirmi, perché tipicamente queste macchine aspettano un po' e poi dopo dicono no, buono o cattivo, perché non fa niente. Posso avere dei trigger sul tempo? Per esempio, mi eseguo soltanto il primo del mese tra due anni, verifico se c'è la connessione a internet, verifico l'informazione del volume dove sono installato, perché molte volte le macchine virtuali, quando eseguo una macchina virtuale, gli danno un nome che è fittizio e quindi lo vedo da là, oppure addirittura il nome dell'eseguibile, perché molte volte gli danno un nome standard all'eseguibile, quindi io vedo il nome di me stesso, se il nome di me stesso è diverso da quello che mi aspetto, non mi eseguo. Oppure aspetto che l'utente faccia il reboot, tipicamente in una macchina virtuale non si fa il reboot e quindi io aspetto il primo reboot e quindi poi mi eseguo. Oppure vedo servizi e altre cose di questo tipo. E quindi è una rincorsa, i produttori di cui abbiamo parlato prima che fanno? Simulano l'andare del tempo, simulano il mouse che si muove, simulano tutto quello che vi pare e quindi in qualche maniera una specie di rincorsa tra chi produce malware e chi, tra virgolette, li deve bloccare. Peccato che c'è un limite, che è il paziente zero, cioè quello che si breaka il malware per primo. Quello, ci possiamo fare quello che vi pare, ma il malware se lo becca. Perché? Perché un'esecuzione tipica in una sandbox è di tre minuti. Sì, si può ridurre perché effettivamente i computer migliorano, ma effettivamente voi avete il risponso che un malware è un malware solo dopo tre minuti. Il che significa che se io creo una campagna d'attacco dove tutti sono pazienti zero perché genero talmente tanti malware specifici, crittografati con una chiave specifica per tutte le persone che io attacco, che siano un milione, che siano mille, che siano diecimila, io ho sempre il limite dei tre minuti. Se la mia campagna d'attacco è veloce, io l'attacco e lo porto a termine. Perché? Perché le sandbox non riescono a capire che quello è un virus e quindi in qualche maniera io non posso bloccare l'attacco. Posso sapere a posteriori che c'è stato, ma non lo posso bloccare. Perché? Perché c'è un altro elemento importante che abbiamo dimenticato, ossia che l'utente quando naviga su internet non vuole aspettare. Quindi se io ci metto tre minuti per analizzare un oggetto che scarico da internet, voi immaginatevi se navigate e dovete aspettare tre minuti perché lui comincia a scaricare qualcosa. È impossibile. Quindi c'è un limite tecnico, psicologico, per cui oltre questo non si può andare. In realtà stiamo parlando di cose, diciamo, un po' più in là, anche se qualcuno già sta cominciando a farle in questa maniera. Perché? Perché in realtà dobbiamo pensare a un tipo di attacco il cui obiettivo è quello di eseguirsi nei primi due minuti, distruggere tutto quello che deve distruggere e poi sparire. Quindi effettivamente c'è un po' il concetto del persistent, nel senso che l'obiettivo non è quello di renderlo persistente, ma è quello di fare un qualcosa subito e sparire. Quindi in una logica di attacchi tipo Stuxnet dove voglio bloccare un qualcosa e poi andarmene via, effettivamente funziona. Però questo è il limite fondamentale oltre il quale non si può andare. Però ad oggi ci sta bene così. L'unica cosa certa quando utilizzate le sandbox e vi discorrendo è che questa è l'unica soluzione fattibile ad oggi che può gestire cose di questo tipo. Perché una cosa che sicuramente non si può fare è affidarsi all'utente. Perché l'utente tipicamente fa queste cose qua e quindi almeno con le sandbox qualcosa riusciamo a fare. Grazie a tutti. Ci sono domande? Scusate perché io poi mi dimentico sempre. Ci sono domande? È tutto chiaro? Voi ho distrutto? Questo sì. Adesso che vai, butti il tuo computer. Allora, come ho detto io nello speech dell'anno scorso, in realtà perché è tutto concentrato su Windows? Perché la maggior parte della gente usa Windows. Quindi effettivamente nella logica che io attacco un qualcosa perché c'è un ritorno economico, perché dovrei attaccare gli utenti Linux. Prima sono un po' più sgamati su certi discorsi. Secondo sono di meno. Quello che sta invece aumentando sono gli attacchi su Macintosh, per esempio, perché con Java si sono trovati la possibilità di entrare dentro. Perché? Perché effettivamente i Macutenti cominciano ad essere abbastanza. Quello che sarà interessante vedere, ma poi ce lo spiegherà Igor dopo in qualche maniera, è sui mobile invece. Perché Linux, Windows, vabbè, è tutta roba che tra virgolette appartiene al passato. Sapete che adesso il numero di terminali mobili, che siano tablet, che siano cellulari, smartphone, hanno superato di gran lunga il numero dei PC o dei portatili. Quindi se io dovessi fare una campagna d'attacco, effettivamente a me conviene attaccare dei terminali mobili, soprattutto Android, che in questo momento, diciamo così, ci consente maggiori opportunità. Vediamola così, è un po' come il Windows dei tempi andati. Ci sono delle limitazioni in questo, però effettivamente è sempre un concetto di ritorno di investimento, vediamola così. Per fare un esempio, quando parlavo delle vulnerabilità, in realtà noi viviamo un falso mondo di vulnerabilità, perché noi ci dicono, ci dicevano vulnerabilità su Windows, su Office e altre cose. Poi se uno pensa, che ne so, agli apparati Siemens che gestivano appunto, che Stuxnet bucava per le centrali nucleari, quella sana sono trovata, tra virgolette, gli americani in qualche maniera. Significa che quella vulnerabilità c'era, ma perché non l'aveva trovata nessuno? Semplicemente perché tu non hai soldi per comprarti un sistema che mescola le turbine delle centrali nucleari, insomma, cioè c'è un suo costo. Come vi potrei dire per esempio le centrali telefoniche, un pentest che abbiamo fatto, cioè per esempio sulle centrali Ericsson bastava mandargli quattro pacchetti e crollavano, questo è il concetto. Ma chi c'ha i soldi per una centrale Ericsson a casa propria? Esatto. Sì, 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 vabbè, quello. Altre domande? Allora, attenzione, quando io ho detto che sono sandbox fatte per, quindi, guest image, poi ognuno le chiama come gli pare, non sono oggetti che poi rendono resiliente quello che viene installato. In qualche maniera, dopo che hanno dato il verdetto e quindi dicono buono o cattivo, resettano tutto quanto e si riparte da zero. Questo è il bello anche delle guest image, in qualche maniera, perché possono essere distrutte e ricreate quanto ti pare. In qualche maniera, per esempio, soluzioni tipo Farai, per dare un esempio, sono basate invece su guest image virtuali che vengono patchate sul kernel con un rootkit, fondamentalmente. Quindi lui, quando ha finito l'analisi, ricrea la guest image e la rootkit, di nuovo rootkittata. Quindi quello è un ciclo continuo che viene fatto. Ovviamente sono macchine altissima performance. Attualmente sono o gestite in the cloud, perché ovviamente hanno bisogno di una computazione di potenza elaborativa molto alta, oppure, tipo esempio Farai di prima, ha la possibilità anche di avere delle macchine on-site. Ma sono macchine carrozzatissime in termini di CPU, RAM, perché effettivamente devono fare eseguire, considerate che gestiscono due milioni di oggetti l'ora, all'incirca. Quindi su guest image, che però attenzione, Linux non c'è, per esempio, sono tipicamente XP, 7, adesso anche 8, con tutte le varie versioni di Internet Explorer, perché poi tutta sta cosa tu non la puoi eseguire solo su Internet Explorer 6, la dovresti eseguire su 7, 8, 9, tutte le varie versioni, perché io magari ho un malware targhettizzato su un Firefox o su un Internet Explorer o su altri programmi, quindi devo sempre eseguire tutte le persone, come per Java. Sì, concettualmente sì. Molti fanno così. Poi se c'è la virtual machine brillata con la tua, vabbè, però è un altro discorso, però, diciamo, concettualmente, sì, molti fanno in questa maniera, anche io faccio in questa maniera, nel senso, hai il tuo virtual domain in qualche maniera, lì sopra ci segui quello che ti pare. Questo però non significa, io lavoro tutto in ambito virtuale e il virtuale è la panacea di tutti i mali. Attenzione, quando io parlo di gestione dei sistemi di virtualizzazione, per esempio, la prima cosa che fanno questi malware è verificano se c'è VMware sotto, VirtualBox o quello che vi pare. Quindi già oggi, concettualmente, pensare che io blocchi i malware o li vedo quello che fanno nella virtual machine è totalmente impensabile. Quello che si può fare, però, eventualmente, nel caso che uno ha dei rischi a cose del genere, è sfruttare quei meccanismi online che vi ho detto prima, tipo WAPE-SET o Anubis, per farli eseguire su un ambiente controllato che non è quello tuo. Un po' come si faceva prima con VirusTotal, cioè lo passavi su VirusTotal, vedi quello che fa, tanto su VirusTotal adesso niente, considerate che dei test che abbiamo fatto, per esempio il malware di prima, lo passi su VirusTotal da zero. Quindi, ormai i malware danno tutti zero, anche l'esecuzione su VirtualBox, che sono standard. Mandiant fa tante cose fighissime, perdonate il termine, quella è la più porcata di tutti, nel senso che fondamentalmente ha detto una cosa che faceva quasi del ridere, se tu ti facevano questi famosi attacchi mirati per mettere APT all'interno di server in giro per tutto il mondo, finalizzati a cosa? Per prendere delle macchine, per averle a disposizione un giorno che ci sarà la guerra cibernetica, vabbè, questi sono tutti i dettagli di lettatura. La cosa interessante, secondo me, è il fatto che quell'attacco veniva fatto con un RAT che era pubblico, che non si pagava, e un exploit kit che si pagava ma a 100 dollari, quindi cioè, poveri cinesi, cioè io dico, nel senso, potete fare di più, questa è la questione. Allora, c'era un mio amico che diceva, basta che cambi sistema alternativo, sì, oppure c'era un mio amico che cambiava semplicemente i banner all'interno dei vari servizi, quindi se c'era IS si presentava come Apache, oppure se c'era Exchange si presentava come Sendmail, per esempio. Sì, ci sono sicuramente, tu puoi fare leva sul fatto che loro hanno interesse a bucare subito e velo rapidamente, quindi non gli interessa essere troppo, diciamo così, invasivi e troppo pervasivi nel tempo. Quindi su questo si può giocare, camuffando un po' diverse cose, ci sono delle soluzioni in tal senso. Sicuramente il metodo del sandbox in locale, scordatevelo, perché ci vuole un po' di potenza elaborativa interessante. Grazie a tutti ancora.